L'aria puzzava di pesce, era la zona industriale di Bright Falls, nei dintorni probabilmente... Sì, riuscite adesso? Sì, eh? No. Potrò accendere un'altra nuova e scoperta? No, 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 no. Oh, per un pelo. Ah, buon'ora arrivi, ormai me lo hanno già malmenato. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Termos Pagina Poi Attivando il jukebox otterrete un obiettivo